Ehi, ciao! Sì sì, dico a te. Io sono Veronica e ti do il benvenuto nella campagna 2022 per il 5x1000 alla cooperativa di Bessimo Onlus. Il 5x1000 è una misura di sussidiarietà fiscale che permette ai contribuenti di destinare una parte dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di realtà che operano attività di interesse sociale, come la cooperativa di Bessimo, ma secondo me l'avevi già capito. Da oggi e nel prossimo periodo, infatti, avrò il piacere di raccontarti molto sulla cooperativa, in particolare delle tante e diverse attività accolte sotto l'etichetta area carcere o messe alla prova. Sì, perché il 5x1000 di quest'anno ci aiuterà a sostenere le attività di housing sociale rivolte a persone detenute o ex detenuti che hanno deciso di ricominciare una nuova vita in contesti di legalità. Cos'è l'housing sociale? È un'offerta abitativa temporanea per persone a fine pena o in esecuzione penale esterna che a una casa non ce l'hanno, ma hanno bisogno di un supporto educativo e umano per riacquisire una propria autonomia abitativa e anche in generale nella vita per la ricerca di un lavoro, per la gestione delle diverse incombenze giuridiche, sociali e sanitarie, per tornare ad essere pienamente cittadini. Le misure alternative al carcere, come l'housing sociale appunto, sono il più efficace strumento di esecuzione penale previsto dall'ordinamento giudiziario italiano. Ti faccio un esempio. Se una persona viene condannata per un reato, quando si avvicina alla fine della sua condanna, ovvero scende sotto i 4 o i 2 anni dal fine pena, può chiedere di uscire dal carcere e finire di scontare il periodo restante in una misura alternativa esterna. Funziona? Alcuni studi sulla recidiva, cioè sul ritorno al reato di persone che finiscono di scontare una precedente condanna, ci dicono che solo il 19% delle persone poste in affidamento esterno commette reati negli anni successivi alla fine della condanna, mentre tra chi sta in carcere fino all'ultimo giorno della pena, la recidiva è del 68%. Ovviamente questi dati si riferiscono a situazioni generiche. La cooperativa di Bessimo, in tutto ciò, si impegna per migliorare la qualità della detenzione all'interno degli istituti di pena, ma anche per offrire buone misure esterne che sappiano creare opportunità reali di reinserimento. Durante il 2021, infatti, abbiamo contribuito a offrire opportunità esterne negli appartamenti di housing sociale a 42 persone. È quello che prevede la mission della nostra cooperativa, ma è anche ciò che viene richiesto dall'articolo 27 della Costituzione italiana. Alleviare le sofferenze imposte dalla privazione della libertà, offrire opportunità al condannato per diminuire i reati commessi contro i cittadini. Questa è la scommessa che puoi sostenere con il tuo 5 per 1000 alla cooperativa di Bessimo. Dare dignità alle persone per costruire una convivenza senza reati. Lo sapevi? Ora lo sai! E se vuoi saperne di più, visita il sito www.bessimo.it. Troverai il link nel testo. Ci vediamo al prossimo video! Non saremo qui, ma... altrove. Dove? Seguici per scoprirlo!